Ciao! Hey, you win! Grazie mille, ma grazie anche a Francesco che dice siamo già due, come vuole il tempo in sua compagnia perché sono una persona allegra e divertente che porta... Ah, sì, mi ricordo! Un fuoco? Mi sembra un pelo fuori sink, ma non importa. E grazie anche al signor Ultimo! Quello che se non lo metto non ce ne andiamo. Graek, dieci mesi, dai che ci si arriva all'anno, dai! Dai che ne mancano due, devo mettere una canzone per l'anno, assolutamente. Grazie a Rocket, siamo a tre, il tempo passa veloce, ma sto aspettando ancora l'invito a cena, è una cosa seria. Aspetta e spera, se sono un bronzino, caro mio. Grazie anche a Birdman, che non so se avete capito, bird come barba, man come uomo, dieci mesi, grazie mille. E grazie anche a Megacris, che dice ancora quattro e poi facciamo l'anno, devo proprio mettere questa cosa qui dell'anno. Devo, devo. Shinigami, grazie mille! Lui invece è nuovo e dice, eh vabbè, entro, entro, giustamente, entra a questa casa mia, entra, grazie anche Checco, benvenuti a tutti, benvenuti, benvenuti, grazie mille. Ma c'era anche da ringraziare prima, prima, Andrexi, 1999, Cantina, che è un nome, che è tutto un programma, Lollobytes, ok, che erano loro, che si sono subbatti durante il pre-live. Vi ringrazio, infinitamiandes. Ah, ci sono un bel po' di zampine nel bicchiere. Luganno, grazie mille anche a lei. Allora, questa sera si chiacchiererà, si fanno un po' di chiacchiere, si giocherà ad Altimetrician Horse, se funzionerà, useremo i grandi e potenti mezzi della tecnica per poter vedere più facce contemporaneamente. E questa cosa è straordinaria, restate tunati per scoprire questa cosa. Grazie a Luganno, grazie a Griever e Legnams. Grazie mille a tutti e Teree. Legnams, 11 mesi, tra l'altro, devo proprio mettere il suono per il 12. Sovietico, se è arrivato è fatto casino, sono sbronzo più uno, grazie mille. Ah, avranno finito quei due. Avete finito di fare i pompini a vicenda? Pazzo, mi è piaciuto un sacco. Ti scorreggio il telefono. Grazie, Ago. Ti scorreggio il telefono. Eh, perché mi arrivano i messaggini e sento... Mi passi. Grazie, Matte, nove mesi perché lei è bello. Io non ho un hangout, Moro. Quello di prima era in cronologia e funzionava. Quindi lo riprendo quello. Se vuoi, sì. Ce l'hai ancora? Partecipo. Tanto è... Quindi non è quello di prima. Sì, sì, quello di prima. Sì, sì. Guarda, partecipa. Hai visto? È quello di prima. Mi muto, scusami. 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 Ma cattura una finestra piccolissima in otto, scusami. Mi siete minuscoli. Ma non mi vedete mai, però. Eh, ma si vede piccoli. Cioè, ci sono le cosine piccole anche su... No, aspetta, accendo la... Come fa a te a vedermi? Non è possibile. Eh, non ti si vede mai. È Marta, non lo so. Aspettate, faccio un piccolo magheggio. Adesso voi vedete questa cosa qui. Io praticamente con il potere dell'alt faccio questo. E non so chi cos'è. No, ovviamente. È Marco che mi ha strappato le orecchie. Perdonate un attimo, ci vorrà solo un secondo che qui facciamo dei lavori. Dei lavori. Mica siamo qui per cazzeggiare. Eh, guarda, guarda te che mestieri che sto facendo. Hai visto? Aiuto, non si muta quello lì. Perdonami. Non lo perdoniamo. Io non lo perdono. Ok, aspettate che gli mettiamo un po' più grandi celli. Basta fare così, vedi. Allora, questo qui è Moro. Vedi, Moro. Lo metto vicino. Eh no, troppo grande Moro. Mi fai cacare. Allora, non è che devi fare il vaporetto qua. Hai capito? Non posso? Eh no. Sono a casa mia, sono. Entera. Bravo. Ah, sì, mi ricordo. Bravo, gatto. Reikub, sono quasi d'argento. Grazie mille. E Leonardo, invece che... E sono sei mesi. Viva i cani. Ah, viva i cani, ma dopo sei... Eh, sbagliato e ha messo Gatti. Bravo, bravo. Lui è una persona modino. Non è come Moro che fa... Guarda lì, come l'ho scontornato bene. Che bravo che sono. C'è alzato il volume tutto di uno. C'è alzato un sacco, diciamo. Io? Sì. Cioè, in realtà va bene. Non è che c'è alzato a mille. Marco, lo lasciamo così piccolino. Guarda, lo teniamo lì così. Aspetta che accendo la luce, che così è una merda la luce. Sono piccolo. No, vi si frizza se mi riduco di cona. Spero non si frizzi anche mentre sto giocando. Sono ben tornato. Se spengo la luce dietro che... Perché ogni tanto ti ciccia fuori la schietta il nome? Perché ci ho passato il mouse sopra. Scusami. Scusami. Federpis. O Federpais. O Fede. Domani compri 26 anni. Si festeggia rinnovando. Finalmente sono ora. Era oro. Grazie mille. Devo metterla. Sono dei 12 mesi. Ve l'ho promesso. Ve lo devo mettere. Marco, vai benissimo così. Guarda, ti metto lì. Ah, sì. Mettilo in mezzo a noi. Sono meno importante di voi. Scusami. Sono meno importante di voi. No, no, no. Sei più importante. Guarda che bello che sei. Io non sono molto contento. Arachno. Sette come i peccati capitali. Ma noi siamo bravi con la guida del Gattolicismo. Grazie mille. Vedrete quanta ficcanza in abbondanza arriverà alla Games Week. Esatto. Il 15. Arche bellino. Il nostro paragoletto. Guardiamolo. Ero quasi nudo. Aspetta, qual è il lato? Questo? No. No. E se ti dico no, non è che ci devi pensare. Quello, sì, è quello. Scusa che stavo facendo le robe. Lo tocco? Tocco. Che pelle. Guarda. Bene. Si è frizzato lì. Vabbè, lo mettiamo in un angolo che ci fa schifo Marco. Guarda. Che pelle. Che pelle. Che bellino minimark. Vabbè, vedi come vengo trattato da queste merda. Oh, 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 oh. Il linguaggio. Che reazione. E poi mi ha detto del... Ecco lì i cavalli. Fammi prendere il mio pad pieno di polvo. Lo teniamo qui in mezzo. Che pelle che sono piccolo. Cosa fai? Svabite. Ti faccio i tricks, però. Ti faccio i tricks. Allora, aspetta, fammi gestire le cose. E vado a scorreggiare. Telefono. Ha ragione Marxo, dicono. E ce l'ho... Come si chiama? Ultimate Chicken Horse. Abbiamo moltissimi argomenti da trattare questa sera, amici miei. E oggi... Minchia, se è proprio vero. Uno di questi è il crudesimo. Oh mio Dio. Com'è che si chiama? Scusami, mi ricordo mica. La crudità. No. Il crudismo. Le cruderie? Il crudismo. Sei sicuro? Ma la crudismo. Mi sa di sì. Io non... Crudisti. Sono crudisti, quindi è crudismo. Aspetta che intanto devo capire qua se la webcam... Cioè se il video va bene. Il video va bene. Ragnar! Wow! Tre mesi, finalmente, anche io mi sbronzo col Dompero. E Agliox, invece, che si suba per la prima volta. Sono molto contento per... Cosa devi fare un po' più PC nella web? Eh, stavo giusto pensando a questa faccenda qui. Si copre tre quarti del... Però in realtà, in realtà, tu come ben sai, il gioco non è... Ospita partita, privacy... Io non ho capito, perdonami. Aspetta. Privacy, solamente amici. Etichetta divertimento. Arrivo subito. Arrivo subito, un po' di freschino, Gatto. Aspetta. Metto un piccolo... Scusami, cosa devo fare? Ospita partita. Yes. Ah, che fa? Finalmente mi sentite. Hosting è iniziato, ok. Io di solito, cos'è che prendevo io? Il pollo? Io avevo il coso, il... Il... Vabbè, unitemi comunque. Sono unito io. Il procione avevo io. Sì, allora io ero il pollo, mi ricordo. Io invece... Apposta. Un attimo che mi sento... Avevo lo spogliato. Vabbè, allora aspetta che rimpicciolisco magari un pochino le nostre facce. Sì, un pelino l'impicciolisce. Così. Secondo me siamo belli lo stesso, Gatto. Secondo me potremmo migliorare, ma non importa. È vero, è vero. Io ci sto provando, ma comunque faccio caccare. Non so come è possibile. Eh, perché non ti lavi. Non ho fatto attività fisica. Allora dobbiamo fare il vecchio maniero e la piramide, Gatto. Va bene. Comunque si dice le vecchie maniere, Moro. Non c'è proprio niente. Usami, Marco. A volte non so cosa mi capita. Secondo me sei stronzo. No. Com'è che si giocava qua? Aspettiamo l'altro coglione. Aspetta! Mi bevo un latte caldo nel frattempo. Intanto ringrazio Morenix che invece fa 11 mesi. Viva Pezzali. Siamo a 11. Un saluto a tutti. Per sabato prometto di essere. E non lo dice. Brutto bastardo. Grazie a Matt. Con la tua incredibile bellezza interiore e nauseabonda mi hai convinto a resubbarmi. Grazie mille. Ma comunque questo outfit mi ha ricordato l'internet, Gatto. A te no? Eh sì. Cosa scusami? Eh vabbè. Non sa. Non sa un cazzo. Dai usa quel freccione. Dove è il freccione? Eccolo là. Molto piano eh. Ah. Sai che quasi abbasserei ancora l'audio da gioco? Ah sì mi ricordo. Ma perché mai? Perché è alto. Aspetta che mi sistemi. Perché è alto? Dove è? Ah sì mi ricordo. Che cazzo. Ok. Egregio Ezio Greggio. Domani inizia la scuola, domani termine la mattutina. Come domani inizia la scuola? Non è un po' tardi? Non è un po'... Ezio non è un po' tardi? Sono leggermente più piccolo che fastidio. Corcafacca. Guarda che fastidio. Sono leggermente più... Ah. Rocket. Guarda. Piuttosto vado via. Ma lasciami qui. Grazie Rocket. Sono sette le suole bene gatto. Soprattutto le dico grazie ai minori tre. E grazie anche ad Alemange. Avete finito? Io sono fermo in realtà. Andiamo qui. Ah ricordiamo che in questo gioco, come ultimamente in tutti i giochi, faccio caccare. Lo dico perché... Non c'è la chat stasera, non c'è la chat, quindi ci arrangiamo un po' per il cazzino. Perché dobbiamo parlare noi con la chat, dobbiamo creare dei top. Allora, innanzitutto una domanda... Posso partire io gatto? Prego, prego. Aspetta che intanto ringrazio Rallo che si è appena subito, ma per il resto puoi partire tranquillamente con il tuo... Allora gatto. Bastare. Io ho subito un'obiezione nei confronti dei crudisti. Un'obiezione. Quindi vuoi partire parlando dei crudisti. Sì, perché c'è una cosa che mi infastidisce molto. Sì, ovvero. Allora, c'è gente che mangia crudista, no? E c'è gente che dice addirittura che è molto buono questo cibo. Ok? Nonostante non sia... Quindi sono tutti dei bugiardi stai dicendo. Aspetta, non è questo il punto. Però io ho un'obiezione. Grazie Guinness. La smettiamo di chiamare le ricette dei crudisti con i nomi delle cose non crudiste. Ma questo è un discorso che si potrebbe... Perché la pizza non è la pizza. Ma si potrebbe dire tranquillamente che con i vegetariani, i vegani e qualsivoglia... No, no, ma in generale... Il termine carbonara credo che sia abusato. Assolutamente. Soprattutto visto che la carbonara crudista è fatta con i cetrioli. Effettivamente è un problema che ha... No, mi ero preso con l'internet. Gatto, anche perché ci sono delle ricette molto buone che... E sono due... Un passo in più verso l'anno grazie a Denizate che mi regala ogni giorno. E grazie anche a Joaquin. Potremmo fare veramente l'internet, Moro. Hai capito, così di plagio. Ma se cazzo ce ne vedo... Saranno vent'anni che non fanno una puntata quelli lì. Anche perché dicevo gatto, perdonami. Sì, dica, 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 mi dica il dottore. Ci sono ricette molto buone. Sì, tipo... Quindi secondo me è un peccato... Cittami qualcosa che ti piacerebbe mangiare domani. Allora, per esempio... Aspetta che dice il pacchetto. Io penso alle cose vegane, no? Sì. Ci sono alcune ricette che magari... Io sono morto. Niente. Però ho sbloccato proprio. Ci dovrebbe essere la carne o la salsiccia, no? La salsiccia? La salsiccia. Non salsiccia. La salsiccia. La salsiccia. Ok. Sale e grasso in pratica, eh. E... Sei scemo. E io, vabbè, prego. E mettono magari i pomodori, no? E cambiano un po' la ricetta. Moro? Ah, scusami. Stavo svappando. Tolgono le uova, tolgono la carne, no? Sì. E mettono questi pomodorini secchi. E magari la ricetta è buonissima. E potrebbe avere un nome suo. Proprio perché è buona, l'hanno inventata loro. E la chiamano come quella che non è. E tu, ad esempio, come la chiameresti? Marco. Marco. Ma che ne so, chiamala... Marco. 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 Basta con i pomodorini. Già esiste. Oppure un nome inventato completamente, tipo Mario Finotti. Che ne so. Cosa? Ma non chiamarmela parmigiana, non chiamarmela... È vero, perché secondo me hanno questa crisi. Matriciana, perché? Hanno questa crisi loro. Ma è la matriciana? Che non riescono a... La merda, moro, la merda! Arrivo, eh, un attimo. Di pazienza. La vedo male, la vedo male, amico mio. Resisti! Ah, vabbè, basta correre, in realtà. Dove ero? Io vinto subito. Io vinto subito questa cosa. Perché non so io. Eccolo! Eccolo, c'ero! C'ero! No, ce l'ho fatta! Come ce l'hai fatta? Dai! E come hai fatto a farcela? Non lo so, gatto. Ce l'ho fatta e basta. Come per arrenderti? Non voglio arrendermi. Aspetta! È niente. È niente. È niente. Che cazzo. Perché secondo me è sbagliato. Scusate, ho ripreso. Ma lì è il pollo che è vegano. Chiedo scusa. Perché devi chiamarlo il parmigiano? Non ho letto cosa ha scritto la Vickadladi. Qualcosa puntiglioso, come dice Dabo. Esatto. Dabo è sempre un po' scortese, però. Poi toglierlo come moderatore. Hai ragione. Mettiamo qualcun altro. Oh, ma io sono qua indietrissimo. Fanculo. E... E chi se ne fega, Dev? Della musica. E praticamente ci sono... No, noi ne abbiamo... Tra l'altro noi siamo partiti a parlare senza spiegare... Dare un minimo di contesto che dovremmo dare ai nostri telespettatori. Grazie, Padro... Pedro. Grazie, Pedro. Praticamente ci sono queste persone che si chiamano i crudi. I crudi... I crudisti. I crudisti che mangiano crudo. No. Ma non è che sono amanti del sushi. Cioè, anche... In realtà, io ho visto i forno per 15 ore, Morelli. No, perché sono vegetariani. Non so se sono proprio crudi. Sono vegetariani e vegani, giusto? Entrambe le cose. Ma no! Ma perché? Ma sono stronti. Morelli, io ti ricordo la ricetta in forno per 15 ore. No, è il nessiccatore. È il nessiccatore. Sarai vegano e bio quanto cazzo ti pare. Però se tu metti qualcosa in forno per 15 ore, sei anche un po' uno stronzo. Dell'ambiente te ne frega anche poco. Un pochino, un pochino. Un pochino, sì. Non mangiano crudo, cucinano massimo 35 gradi, usano essiccatori. E, sai, hanno tutto il diritto di fare il cazzo che gli pare. Certo, ma io non mettevo in dubbio quello. Mettevo in dubbio il nome. Che fastidio. Il nome è un errore di gioventù. È come chiamare proboscide le orecchie. Eh no, dai! È anche tu, è anche lui, è a posto. Eh niente, io non so giocare veramente. Però posso recuperare, attenzione. Poi queste sono comunque chiaramente delle cose per essere puntigliosi. Però... No, per carità, puntigliosi... È vero, per attrarre nuovi adepti, dicono, usano nomi. E secondo me è anche vera. Ma quindi io adesso, attirato dal nome Carbonara, mi presento in un negozio, in un ristorante giustamente crudo, e gli faccio, scusi, perché, anzi no, sai cosa? Vedo fuori da questo locale che c'è scritto oggi Carbonara. E io dico, cazzo, che buona la Carbonara, Marco, che sei uno stronzo. E poi, allora, è impossibile diventato. No, perché scusa, è giusto che abbiano delle ricette nuove. E io, attirato da questa cosa qui, entro nel locale e dico, cazzo, mangio la Carbonara oggi. E non era vero niente. Ma per quello io dico, ma scusa, visto che è una cosa nuova, no? Sì. Io sono più curioso se mi dà il nome nuovo. Sono più curioso di provarla. Eh, ma però tu sei più propenso. Oggi andiamo a mangiare un bel patafiollo. E cos'è il patafiollo? Andiamo ad assaggiarlo. Ma tu assaggeresti il patafiollo? Sì? Ma io lo assaggererei un bel patafiollo. Ma ce l'ha fatta quell'altro coglione lì? Eccoci qua. Ma siete dei maghi. Avete tolto il coso, grazie a tutti. Io mi prendo anche il soldino. Sì, Succa. Te l'ha preso. Me l'ha preso il soldino, guarda. Ale? A me non mi dico, però. Eh, lo ha messo. Io non sono attento, stavo guardando voi, amici. Ale dice Dabo che lo sta mangiando ora il patafiollo. Lui è degustatore maximo di patafiollo. E infatti, mi ricordo, come l'ha detto. Pontifica anche quando lo metti in bocca. E sono stupido allora, scusami. Sono molto dispiaciuto per la tua condizione, Marco. Ah, sì? Allora, Moro che si è fatto il percorso per se stesso. E allora vaffanculo. Nabbo di merda. Eh no! Eh dai! Eh, tanto Moro, io mi prendo la moneta, cazzo me ne frega di te. Ma sì, sì, con calma. Doppia moneta io vedo, tra l'altro. Non so però capito, ma se tu fai una nuova ricetta, anche se internet avrà quel nome. Il Lorenzo ha vinto! Vaffanculo! Sei il migliore lo scogliato! Sei il migliore lo scogliato! E quindi ci sono queste persone che mangiano crudo praticamente. Cioè, o crudo e siccato. Ma il fatto è che... Allora, vi raccontiamo questa storia, no? Dai Marco. Allora, c'è questa... Questa persona, no? Leggenda, sì. Che fa questo tutorial con una ricetta per fare... Non svegliamo niente perché è un segreto. Esatto. Però tipo, per fare una pizza... Ah, come piano vogliamo fare il cattivo pubblico. Per fare una pizza... Beh, non credo se ne faccia buona. Per fare una pizza, praticamente... Beh, ci mette... Quanti ingredienti avrà elencato? 40? Sì, ma la metà finivano tritati. Io mi ricordo anche delle mandorlette per questo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, abbiamo sbloccato il mulino! Per Moro. Grazie. Questa era quasi impossibile a non farla. Esatto. Infatti non c'è da punti. Aspetta, c'è Plasma Cannon che dice... Ve lo dico da vegano, marca completamente ragione. Lo dico da anni, infatti... Uno dei miei fatti preferiti che somiglia ad un arrostro, lo chiamo... Papa Flauto. Eh, sì, sì, fai bene. Ho fatto bene. Chi è questo qua? Dimmi il nome. È Plasma Cannon, uno che ci segue da una vita. Tra l'altro, il buon plasma. Perché infatti dopo c'è la gente che dice... Ma perché ce l'avete con i vegani? No! Ma io non c'ho proprio con nessuno perché non c'ho voglia di avercela con qualcuno. Ma no, ma anzi... Ma proprio perché tante di queste ricette sono veramente buone... Perché non gli devi dare veramente... Cioè, un nome... Ma perché, scusa? Io conosco un mio amico bravissimo, però siccome Gandhi è stata la persona più brava del mondo... Lo chiamo Gandhi, questo mio amico. Non gli do il nome suo. Eh no! È bravo anche lui, gli dà il nome anche lui. Cosa vuol dire? È una brava persona, mi diriterà un nome anche lui. Povero Gandhi. Perché devo chiamare tutti Gandhi? C'era la carbonara, no? Questa carbonara... Naturalmente non era una carbonara perché gli spaghetti erano fatti con un cetriolo. Con un cetriolo, sì. Chiamamela... Chiamamela insalata. Scusami. Insalata di... Cazzo. Cos'era l'altro ingrediente? Insalata di cazzo? Cos'era l'altro ingrediente, Moro? Era... C'erano dei cetrioli con una roba... C'era il peperone. Ah, con il peperone frullato, no? Tipo, chiamalo... Insalata di peperoni frullati. Chiamalo così. Ho rischiato una pugna sui denti dal fiore, io. Arrivo! Eccomi. Ale, Moro merda. Io sono morto. Eh sì. Ma Isa è contraria a quello che stiamo dicendo ma non ha detto il motivo. Come mai sei contraria? Non lo so, l'ha scritto 3-4 volte ma non ha detto il motivo. Quindi non lo so. Vorrei saperne di più. Magari è crudista. Se sei crudista dici la tua, a maggior ragione. Magari sei nudista. E dicela lo stesso, la tua. Io a me interessa perché è un dibattito, mica è una cosa a senso unico. No, ma infatti, noi stiamo dicendo come mai, secondo me... Eeeh, ti ho visto così fatto. Come mai marchizzarai. Eh, va bene. E niente, è fatta, è impossibile adesso. Non è vero, guarda. Ah, ma lì perché si fa una cazzata? Pazzo, c'è la merda lì. Eccolo! Siete delle pippe e vinco io. Alea. I pomodori secchi e reidratati. Che fa ridere un po' per io. Eh sì, in realtà non è che i pomodori secchi poi gli dai. Vabbè, non è che ritornano pomodori come raccolti. Ma io sono contrario alla carbonara. Se la chiamano carbonara crudista che problema c'è? E' che concettualmente è sbagliato. Ma che sia noi, Isa, scusami. Pensavo ce l'avessi con noi quando hai detto male al cuore per cosa stavi sentendo. Invece no, perdonami. Ti stava dando ragione. E' proprio sbagliato chiamare... E' come... E' come se a te ti chiamo Carlo, non sei Carlo? Guarda, c'è stato un uomo... Tu sei... Gatto, sei veramente un bravo ragazzo, no? Guarda, come quel mio amico Carlo. Da oggi ti chiami Carlo tu, gatto. Mi ha tirato un pugno. Ti si è preso la pugna nel fiore. Siccome questo mio amico Carlo è davvero bravo, gatto. E tu sei bravo come lui. Da oggi ti chiamo Carlo, eh? Che bella idea. Che culo. No, ti chiamo Marco. No, è sbagliato, è sbagliato. Bello. Un po' come la mattriciana vegana. No, no, ma è lo stesso identico concetto. Un po', un po' come la gente. Ok, che ci scrivi vegano dietro, però... Tutti gli altri dispositivi tecnologici. Ce l'hai la PlayStation? Intendere qualunque videogioco al mondo. No! Mangi la merda se dici PlayStation. Mia mamma che chiama Game Boy 3DS. Io ero uno gatto, è ancora oggi. Il Game Boy 3DS chiama? Ma ma chiama Game Boy 3DS? Sì, perché mia mamma sono tutti Game Boy quelli portati. Neanche la PSP, era il Game Boy. Cazzi, nudi. Io che dovrei fare qua? Mia mamma conosceva il Game Boy e quindi sono tutti Game Boy. Ma hai fatto Marco? È mago, perché io non so. Eh, sono un po' lontanino. L'ho bisogno. Buon respetto. La salsa di pomodoro vegana senza il pomodoro. Allora non è la salsa di pomodoro. Non è la salsa di pomodoro vegana. A parte che sì. Ma poi per dirti. Che esempio hai fatto? L'ho letto in chat. L'ho letto in chat. L'ho letto in chat. L'ho letto in chat. L'ho letto in chat e vi ha confuso in realtà. Chat, non confondete Mark che già poverino ha dei suoi problemi nella vita. Allora! E vabbè, ma è difficilissimo. Io ce la voglio fare perché non... La voglio più in chat per trollare. No, vabbè. Sì, che poi anche lì questa qui che abbiamo visto... La porchetta vegana esiste? Di crudo. Esiste la porchetta vegana, dico. Beh, immagino di sì. Questo qui di crudista, no? Era una cucina biosostenibile. Però tenere l'essicatore acceso 15 ore è sostenibile. Non credo, a meno che l'essicatore non vada a manovella. Può a legna. Andiamo anche a legna in realtà perché... Ma magari è legna no perché... 15 ore a tritare con... E non devi tritare. No, le cose da tritare anche solo. Non usa la corrente elettrica, sta lei lì col bacinino. Dobbiamo rifare quello di adesso. Cosa, scusami? Cos'è? La piramide. Tutto interrogativo. Sa che te... Regius, sono 10. Non mi ricordo se te ho ringraziato. Intanto ti ringrazio. E poi c'è... Non mi si accende più. Dryuda, festeggiamo il quasi anno con il mio monitor nuovo. Grazie mille. Allora... Uh, cosa ho preso, cosa ho preso. Allora, già che tu mi dici la maionese vegana... Cioè, io sto male. Perché allora, nella maionese c'è l'uovo per... Ma no, è fatta proprio in una certa maniera. Se tu mi metti altri ingredienti non è più maionese. E va bene se tu vuoi magari emulare... O il sapore è identico. Ad esempio, io questa sera... Ti faccio un esempio. Io questa sera ho bevuto il latte senza lattosio. Che è un concetto del cazzo perché non vuol dire niente. Beh no, non è vero. Il latte senza lattosio è sempre latte. Ok, però è senza lattosio quindi neanche vaffanculo. No, non è vero. È come... Cioè, non è la parte principale del latte, il lattosio. Il latte scremato è... Ok, va bene. Comunque, ho preso il latte senza lattosio che è comunque latte, come dici tu. Sì, sì. Quindi si può chiamare latte. Sì. Eh. Perché comunque parti dal latte. Parti comunque dal latte. E ha il sapore del latte soprattutto. Sì. A me piacerebbe che ci fosse qualche crudista, qualche vegano per davvero... Tipo il latte di soia. Perché vuoi essere menato? No, perché voglio sapere la loro. In realtà, tipo anche il latte di cocco, robe così, non c'è scritto latte nel... Allora, in questo caso la maionese è lo stesso sapore, anzi più buono. E comunque la maionese è fatta con l'uovo per... Beh, dipende. Allora sono proprio un deficiore. E comunque è fatta con l'uovo la maionese. Chiamala in un altro modo. Chiamala salsa. Ahia. Ma anche solo salsa vegana. Generico. Salsa vegana? È la maionese fatta con l'uovo. Sì, la maionese è un'altra cosa, quindi... Magari è uguale il sapore, però è fatta con l'uovo la maionese. Cazzi. Ma era lo stesso colore e basta. Che ne so io. Ma io vorrei un vegano in chat perché almeno... Magari anche... No, hamburger di tofu in realtà è... No, non è vero. È vero perché è hamburger, giusto? Se fosse burger e basta... Allora sono contento, Isa. Che la pensano come noi. Perché vuol dire che è un... Ma allora non è possibile, ho preso al volo. Anche io. Ma Isa è... No, Isa ha detto che non ha mangiato la carne per un anno, però parlava al passato. Quindi mi sa che... Ah, ma comunque potete fare il cazzo che le pare. La cazzo che ci parano. Scusa, ma la nutella cosa c'ha di non vegano? L'olio di palma? È vegano l'olio di palma comunque. Che ne so io di cos'è vegano. Non me ne intendo, mi devi dire tu. E allora siamo tutti stronzi e giochiamo al vanilla. Giochiamo con la vaniglia. Bravo. Vegan. Certo, ma non c'è... Oi, oi. Ma dai, che dispiacere. Che disfatta! Ma stai tranquilla, Isa? Ti spargo, eh? L'olio! Ah, la nutella è il latte, è vero? Non mi ricordavi. Non so minimamente gli ingredienti della nutella, quindi. Beh, sì, sì. Sarà latte e crema. C'è le nocciole. Io non sono stato attento. Prima che ha vinto. Lo scopo del gioco è vincere. Io ho vinto. Stai attento, stronzo, allora. Eh, ma sono concentrato io qua. Si parla di cose. Eh, però sei una sega anche. Che lo stai facendo, Marco? Non lo faccio. Penso che si chiami con nome normale perché altrimenti le persone comuni non potrebbero capire che ti stai vantando. Un po' eccessivo. Un po' eccessivo. Sono mica tutti stronzi vegani, scusa. No, infatti. Anche che è vegano, ma... E non lo dice. È una persona normale. Porca vacca. Anche perché non c'è bisogno di dirlo a nessuno, a meno che non ti ho invitato a cena a casa mia, che magari me lo devo sapere un attimo prima. Che pugni che ti saldano. Hamburger è la città di Hamburgo. Sei proprio sicuro che è così? E sono molto contento di questi commenti. Quindi non da Hamburger. Sei proprio sicuro. Ehi Siri! L'origine della parola Hamburger. Ma no, io volevo sapere... Eh no! No! Marco ha preso una freccia nel culo e non è morto alcuna in faccia. No, non ho visto niente di tutto ciò, io moro. Si, pazzo. Anche tu l'hai presa alla fine da me. No, grazie. No, non la freccia al culo di fuoco. Però non aggiungere altro. Eh niente, sono morto. Siri, non posso conversare. Per cortesia, lasciami in pace. Come? Lasciami stare, lasciami. Lasciami stare. Allora, faccio questo. Io non ho capito cos'è questo che ho preso io. Un rullo. Io lo metto... Una molla. Molla la metto qua, allora. Ma è rovescia. È rovescia, scemo. Ma è rovescia! Ma sei veramente pirla sei. Sei veramente pirla. Ormai era tardi. Eh, ormai era tardi. Cazzo del culo. Supporto. Questi vegani che pensano solo al marketing, qualche nome di maionese o ketchup l'avranno inventato. Perché non inventare nomi nuovi? PS, la corte europea ha vietato la denominazione latte su determinati prodotti, tipo latte di soia. Ah, vabbè, ma è latte di soia, vabbè. No, ma infatti si vede... Fatta frusso. Non è latte. È latte di soia, cioè, è... Non è latte di vacca? Eh, puttana! È morti tutti, va bene. Non è latte, è una bevanda. Infatti tipo anche il nemico di cocco. Ma latte, magari, può essere... Eh no, perché... Eh no, latte credo sia qualcosa spremuto dalle mammelle, quindi... Obbligatoriamente deve esserci questa cosa. Credo di sì. Va bene. Può che sia di mucca, di pecora o di qualche... Ma è latte di cocco, di quelle cose scuse, è sempre latte. No. È una bevanda al cocco. Se te leggi c'è scritto bevanda. Ma il latte c'è anche nei fichi comunque, Moro. In natura, quindi non è vero. Eh ma latte... Però anche il cocco c'è latte. No, ma infatti... Infatti quello che ti dico è... Viene chiamato latte, ma è una convenzione, semplicemente. Sono fatta. Cioè, abbiamo fatto tutti però. No, è che ho fatto da sopra, io ho paura di morire. La soia non è le mammelle. È fin qui. Mi trovi d'accordo. È un succo, non un latte. Quindi anche il latte di cocco è succo di cocco. Ma nei fichi, scusa, non c'è il latte. Io mi ricordo che è latte. Almeno si chiama... Ma viene chiamato latte. Ma infatti, come dicevo prima, è una convenzione chiamarlo latte. Sì, perché... Non mi offende la cosa. Perché è bianco come il latte, quello del fico. Ma soprattutto chi se ne frega, cioè... Eccoci! Eh, vai. Marco, hai preso due monete. Bastardo! C'ha quasi presi, eh? No, a me mi ha superato. Sostanza lattiginosa. Sostanza lattiginosa, non latte. Lattiginosa perché... Come... Perché è in quella sostanza... Cioè, è in quella densità lì. Proprio così, Marco. Bravo. Dov'è metterlo? Gli ho fatto una... È diventato Gesù con la corona di spine. Dovrebbero mettere un attimino a posto tutti quanti i nomi delle varie cose in generale. Perché qui è un casino, non si può più parlare. Non sai più cosa stai mangiando. Eh, ma voi siete pazzi! Ma che cazzo avete fatto? Eh, vabbè. Cazzo! Che tra l'altro, tipo... Allora, signor Wasabi, quello è una scelta per tornare. Non so se solo in Italia non l'hanno mai rispettata, ma tipo, i liquidi per la sigaretta elettronica, ma qualsiasi cosa, non commestibile, E' vietato chiamarla con... Nell'etichetta proprio, chiamarla con nomi di cose commestibili che possono ricordare il commestibile. Andiamo alla cascata. La fattoria, dai! Vuoi votare la fattoria tu se vuoi votare la fattoria? E non votare, allora. Strozo. L'importante è mangiare tutto, che i bambini in Africa muoiono se no. Eh, sì. E pensa, pensa, un vegetariano uccide un sacco di bambini in Africa, se gli proponi una cena a base di carne. Sì, mentre non viene a mangiare la carne. Appunto, è per quello che i bambini in Africa poi muoiono. E' un problema. E' per quello. Non avevamo un livello nuovo? No, ma avevamo un livello nuovo. Non fa niente, ci si incura, ciao. Non ci sta, Marco, vuole farcela. L'ho provato. Sì, un vegano può fare una strada. Non è vero, un vegano vegetariano non si riduce sempre solo a fatto di moda. Non generalizziamo. Ma non è vero. E soprattutto non stiamo generalizzando noi. Esistono anche i vegani semplicemente perché non gli piace la carne? No, i vegani vegetariani. Allora, non credo sia possibile perché da quel che so, l'essere umano, esattamente come tutti gli animali onnivori, gli piace la carne. Eh, puttana. Gli piace la carne. Gli piace, per forza. Ma non è detto perché mai. Ma biologicamente, magari gli fa cacare. Chi è che ha messo quella merda lì? Io. Siamo fatti per mangiarla, la carne. Siamo fatti per mangiarla, ma non è detto che a tutti piace. Eh! No, ce l'avevo quasi fatta. In tutto questo il gatto ha le critiche in nome delle cose, ma sul canale Twitch si chiama il gatto sul tubo. E infatti perché sono... È l'origine del gatto. Sì, mi ricordo. Non è che sono un altro. Netbender, gatto super quark. Non tanto. Mai. Però facciamo finta. Minchia moro. Io sono assoluto giusto. Io non vi vedo, eh. Non fate le cosacce. Mi stavo scaccolando, gatto. La merda! Ma io ce la farò. Io ce la farò. Un po' di moda è diventato massima come qualunque cosa. Massima. Ma c'è gente che proprio gli viene da vomitare a sentire l'odore della carne. E chi per moda è gay. La merda! Quindi. E potessero per moda diventerebbero anche neri, probabilmente. L'uomo mangiava insetti. Non siamo univori, siamo insettivori. No, siamo univori. Univori vuol dire che mangia tutto. Non è vero, non è vero. Univoro vuol dire che mangia tutto. Esatto. Vuol dire... Non diciamo caccate adesso. Ecco perché se no avrei voglia di mangiare solamente cavallette. Ringraziando i Dio. Io ne voglio mangiare le cavallette. E mangia te le cose, devo dirti. Io ho la sedia di plastica ancora. Però mi sono decis... Ieri sono andato all'Ikea e ho visto la Marcus. Eh, ma che cacchio, dai! Eh, non si può mai fare un lavoro a modo per bene. Uh, attenzione, il moro ce la fa! Che cazzo di rischio! Che cazzo! Grandissimo io, grandissimo io. Undeggiamola. Infatti anche Yuiro sono curioso di mangiare gli insetti fritti. Ma io mi mangia neanche i cristiani, se... Cioè, se si potesse. Ma perché sono le cristiane? Anche i musulmani? Ma sì, i cristiani è giusto per dire, sai... Perché palle! Non capito, io. Per gli stare nelle specifiche... Per gli esseri umani! Bravo! Oh, mamma mia. Human of the world. Si diceva una volta, mia nonna diceva sempre anche i cristiani. Ma inteso come vaffanculo. Ah, ma vaffanculo. Ma tu che ti ho detto, eh? Coglione! Era il pistolo lì? Quello non l'avevo mica, vedo mai io. Mamma mia. Fanno una bella... Una bella pattafiolla lì in mezzo. Tra l'altro abbiamo visto un film ieri dove succedono cose proprio particolari a questo riguardo. Che film? Kingsman 2. Io non l'ho visto, che fan. Mamma che bello. Ti ho acconto il finale se vuoi. Ho solo che c'è il Tonjon morto. Thank you! Non è il Tonjon morto. Spoiler! Ho unito le due. E non l'ho visto, quindi anche io volevo stare qui. Ah, Morelli, come ti ha aperto la pancina. Aspetta. Morelli, attento. Gatto, attento. Eh, Morelli. Mi offendo, eh. Eh no, credo... Sono mica vegano io. Adesso è diventato un insulto, gatto, no? Scusami. Supporto. Super Quark Time. Attenzione. La carne come la verdura è fondamentale per la nostra dieta. Molte proteine e sostanze nutritive non sono complementari. Però, una precisazione, due piatti simboli italiani sono vegetariani, la pizza margherita e la pasta al pomodoro. Adesso mi viene voglia... Ho mangiato una carbonara stasera, mi viene venuta voglia di... Più che altro, poi ci sono perché anche i fruttariani, no? Appunto, come diceva Lara Monza, che mangiano solo frutta. Eh, non è il Tonjon, scusami. Come si chiamava? Steve Jobs. Quasi. Una cosa che ho letto della... Steve Jobs è stato un melariano per un po'. Infatti gli è venuto il cancro al pancreas. Perché si doveva curare mangiando le mele. C'è una viceria o è morto io. Perché ho letto che quelli che mangiano solo frutta vivono di più. E hanno la pelle più bella, fino alla fine degli anni. Senza proteine, non so quanto bene... Pazzo, nelle balle. C'è, hanno la pelle del viso, anziché quelle rughe molli, magari che cosa... C'hanno la pelle un po' più soda e vivono di più. Però non so se è una viceria questa qua. Siamo qui apposta per farla divertire. Io per essere sazio mangiando frutta... A parte che piscerei il 24 su 24. E quella è una cosa che in realtà potrebbe anche più o meno... Fare bene il fatto di andare parecchio in bagno. Capito, ma mi si... Mi erode il pene. Come i fiumi che hanno formato le montagne. Non le montagne, ma comunque le golle. Mangiare solo frutta, comunque... Come dicevo prima, Steve Jobs ci è crepato. Pazzo. Perché voleva curarsi mangiando le mele. Subito si è crepato perché mangiava le mele, comunque. No, gli è venuto il cancro al pancreas. E lui voleva curarsi mangiando le mele. Quindi per cortesia, non fate come Steve Jobs, prendete le medicine che vi dice il medico. Per l'amor di Dio. Eh, ma lui si sa, era un tipo ribellino. Infatti è morto da stronzo. L'ha fatto da furbetto. Va bene. È morto da stronzo. C'è poco da dire. Quindi c'è Dabo che lui, appunto, è infermiere. Dice bere troppo non fa bene. Sì, la putta sulla zuccheri, sì, la medicina? Sì, bere troppo non fa bene perché sovraccarichi i reni, comunque. Eh, neanche bere troppo poco, ma la faccio io che invece muoio prima. Ma Steve Jobs si accederà a stare angry, è giustamente. Tanto sapete che quella frase lì non era nemmeno sua? Ma che cazzo? Ha rubato pure quella. È la merda! Beh, rubato cosa ha rubato? Scusami, Steve Jobs. Eh, ha rubato... Ha rubato... A me ha rubato 10 euro, comunque, una volta. Eh, ha rubato le gran robe. Ha rubato le gran robe. Ma in realtà gliela andate gli altri, gliela regalate le gran robe. Cioè, non... Era Xerox che gli ha regalato la roba, cazzi suoi, scusami, non ha rubato niente. Ha detto, buongiorno, sono Steve Jobs. Mi manca 10 euro, mi sono girato, c'era solo lui. Poi fate come volete. E Dabo, Dabo non è d'accordo, dice, è morto da stronzo e ricco. Sì, sì, eh, allora va bene. C'ha ragione lui. Io voglio mettervelo nel culo, ma non so come. Faccio così. Cosa? Faccio tutte le cose se uno dovesse cadere. Steve Jobs durante un periodo della sua vita mangiava solo mele colte alla luce della luna... No, quello no. Non è vero. L'ho letto il libro e non c'era scritta quella cosa lì. Faffina. Cos'è che ha detto? Che mangiava solo mele colte alla luce della luna da ragazze vergini. Non è assolutamente vero. Mamma mia. C'è stato un periodo in cui mangiava solo mele, è vero. Che cosa? Credo sia una battuta. Ma non si può più giocare a questo gioco. Supporto. Ah, l'ha detto Isa comunque, non Dabo con la città di Dabo. Non è che Dabo ha detto, era profita comunque, se c'era Dabo adesso. No, è la frase di prima che è morto da stronzo e ricco, l'ha detto Isa, non Dabo. Ma io l'avevo detto da Dabo. Cosa ho letto allora da Dabo? Non lo so. Tu sai che non leggi ed è la colpa a me. È che sono un po' simili da Dabo e Isa. È proprio, giusto gli occhiali, penso. Agli occhiali, Dabo? Ma sì, ma questo è... Ma questo è... Ma sei il mongolo? Non ha gli occhiali, Dabo. Ma sì che c'è gli occhiali, Dabo. Agli occhi. Ma questo è veramente un disgraziato. Porca puttana, se siamo stronzi tutti. Pumma, il pugno lo evito. Ma io non posso però. Eeeh, lo sbù. Eeeh! Cazzi, Dabo. Fox, grazie mille. Cazzo, ma che cazzo? Non ci può più andare avanti lì. È diventato impossibile. Gemelli separati alla nascita. Ah, sì, mi ricordo. Capruomo, ridendo e scherzando? Siamo già a cinque. Grazie mille. Io adesso qui faccio un po' di... Comunque, la cosa che abbiamo imparato, Gatto, almeno da quello che ci dicono i nostri amici in chat, è che comunque anche i vegani e i vegetariani rompe le balle che non c'è un vero nome. E che non sanno chiamare le cose. No, più che altro, non hai una tua identità, saranno molto dispiaciuti, porca miseria. È come se a me avessero... Anzi, più che a me, è come se mia sorella avessero chiamato Marco 2. Marco, perché era già Marco. È da fastidio, porca miseria, che cazzo vuol dire? Marco, non mi viene niente, volevo fare una cosa simpatico anche io. C'era lo zio della mia ex che mi chiamava sempre con un nome sbagliato e mi giravano le palle fortissime. Sì, sì, io segretamente gli auguravo la morte. Io ero tipo Carlo. Oh, Carlo, che piacere il vede di Carlo. Sì, che fastidio. E lui lo sapeva che era sbagliato. Come? E mi aveva fastidio. Sì, beh, certo. Ah, faceva il simpatico? Faceva il simpatico. Mi stanno sulle palle i simpatici. Ah. Non devi fare il simpatico. Dai, fattoria, lo voto adesso. Dai. Ma fa schifo la fattoria, è quella a base. Tanto vinco io. Non credo. Anche perché si chiama... Ma come ha fatto vincerlo? Penso a voi, invece. Anche di quelle volte l'ha fatto ria. Ma fa il culo. A me i vecchi che cercano di fare i simpatici... Storpeannoti il nome. No, no, devono morire. Non ci posso fare. Non puoi, non puoi fare... Vabbè, è una cazzata, eh. A lei. Tutto io stavo per sbagliarti. A parte il fatto che a me dà fastidio quando mi sbagliano il nome. Perché sono sempre in ansia per questa cosa qua. A me dà fastidio quelli che non sa mettere le vinchele. Le vinchele. È una cosa molto particolare. Veramente, quando metto le vinchele non li sopporto. Come Beltway che ha scritto... Amici, io vado alla prossima. E magari un film che c'è al cinema adesso... Alla prossima. Sì, no. È a posto. Brutto deficiente. Mia nonna mi chiama come mio zio da tutta la mia vita. Eh, ma perché lì è un errore di tua nonna che, poverina, c'è la sua... Che doppia pugna! Tripla! Lì è tua nonna che, poverina, non lo fa a posto. Sbaglia. Non dire che a me mi chiamo... Dardy? Che a me mi chiamo Dardy. Non dirlo a me che mi chiamo Dardy. Allora, è che è scritto giusto. Non stavo vedendo. Ma sei stronzo, però. Stavo cercando di capire, scusami. No, questo lo eliminiamo perché sennò ci ruina la vita. Ma perché lì? Perché lì? Spiegami perché devi mettere... Eh, allora. Bravo, bella idea. Questo è un mongoloio. È veramente un deficiente quello lì. Eh, non è vero. E sei morto da stronzo, infatti. Guarda che si poteva saltare. Ma non è vero. Ma che cazzo di... Questo qui è un deficiente. Non hai saltato a un modo. Devi saltare bene. Adesso apro un altro argomento, gatto. Dai. Allora, a parte il fatto... KFC, innanzitutto. Ci ho mangiato. Ok. Allora. Sì, io a Barcellona. Ieri ci sono stato... Io da Marconone. Sono stato e ho ordinato un secchio. Ma... Sì. Io ho ordinato un secchio. Mi ha rotto un cazzillo, mi ha rotto lì. Adesso mi dici perché hai riso, gatto. Tu come l'avresti chiamato? Ah, che cazzo. Tu come me l'avresti chiamato, scusa. Aspetta, scusa. Si chiama Bucket. Bucket, la traduzione, secchio. Quindi tu sei andato lì e dammi il secchio? Sì. Un secchio di pollo. Un secchio di pollo. Eh, no. Però non è che entra, arriva una signora molto in carne e te lo carica addosso, te lo tira. Però è un secchio. Però è un secchio. Un bucket hai ordinato, giustamente. No, è un secchio di pollo. Comunque, dov'è questo il punto? E ti ha preso per il deficiente perché... A parte il fatto che... Il secchio è per due persone, innanzitutto. Marco. Eh, scusa. E ce n'è troppo, ragazzi. Non è possibile mangiare... Io ne ho mangiato uno. Vabbè, è nato su un maiale. Io dico, per una persona... E allora! Gioco di merda. E poi, scusa, mi ho ordinato il secchio misto. Bastardo, bastardo, ce la fa. È bello. Stai zitto, Davo. Grazie, Massi. Un commentario. La mia donna stava un po' male e allora ho dovuto mangiare tutto io. In realtà non è vero. Amici, ho ordinato il secchio misto. Erano tutti uguali. Non è vero, non è vero. Sei stronzo. Da me erano tutti uguali. Ah, perché ti han preso per il culo perché... Da, c'è Davo testimone. Perché c'è questo il secchio. Perché c'è questo il secchio. Perché c'è questo il secchio. E allora dice, mi han fatto la cosa razza... Ma che... Yes! Te l'ho dato proprio un secchio ti hanno dato a te. Basta chiedere, dopo le... Erano tutti uguali. Ci sono testimoni, non è che... Vabbè, ti è piaciuto comunque? No. Mi ho mangiato mezzo e l'ho lasciato lì. Ma dai, ma sei una merda, ma scusami. Ma non mi piace, ma scusami. Io volevo quelli rotondi. Mi hanno messo... Io volevo... Stai zitto, volevo... No, 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 no. E mi hanno messo sempre queste cose pieni di neri. Sei andato da KFC, visto che siamo in Italia? Sei andato lì e hai ordinato sto secchio, no? Sei un imbecille, perché il secchio è da due. Perché l'hai ordinato da solo? Per non finirlo? Con Sara, ero con Sara. Ah, e allora perché non è... Ma infatti l'ha finito... Non l'ha finito, perché era troppo, ma... Come era troppo? Era vatti in due. E non l'ho... Io ne ho mangiato mezzo, perché io volevo quelli... Gli volevo i nuggets. Perché non hai ordinato i nuggets? C'erano queste palle di morte. Perché non hai ordinato i nuggets? Ma che sono stati... Sono stati cosciotti. No, vero, non è ordinato. Allora, gli abbiamo detto, si può fare visto, fa sì sì, mettere i nuggets con l'altra cosa dentro. Ho detto, va bene. Allora, prendiamo misto. Prendiamo il bucket, non c'era... Erano tutti uguali. Perdonami. Erano tutti uguali, erano. I bimbi africani... E chi ce la frega? C'avranno delle mamme che pensano a loro sti bimbi africani, che glielo devo prendere io? Sei scemo, sei scemo. Non vuoi fare una cosa più inutile. Non l'ha vista nessuno. Io l'ho vista. Caccio. E una puttana. Che erano queste palle piene di nervi, ne ho mangiate due, ho detto, io non ce la faccio a mangiare i nervi, mi fanno schifo. Voglio la carne magera. Ti giuro, ho mangiato un sacco di volte, non ho mai mangiato male, che sì. Ma ho ordinato Sara comunque d'Ubbo, però ce l'ho anch'io. Ah, è colpa sua, quindi... No, io ce l'ho anch'io, ha detto le cose giuste. Stai scaricando la colpa. Cosa vuol dire ha detto le cose giuste? Ho detto che ha detto le cose giuste. Perché ci sono delle istruzioni, puoi sbagliare. Ci sono i nuggets nel misto, sì, sì. Vabbè che questa era peruviana, non parlava bene, comunque io lo dico. Quindi peruviani non parlavano bene. A costo di essere razzista, sembrare razzista. Questa era peruviana, faceva bubidi bubidi bubidi. E non parlavano neanche così i peruviani. Questa era peruviana, faceva bubidi bubidi bubidi. E non era neanche... I peruviani non parlano così. Però non c'è bisogno che gesticoli, puoi giocare nel mentre. Un saluto a Claudia Palmas. Questa era peruviana e mi fa bubidi bubidi. Tu avete visto un peruviano che fa bubidi bubidi? E dipende da... Quei buoni senza nervi sono i tenders, mi dicono dalla regia. I tendini quindi. I tendini da killers. Ti ha detto che ti fa anche gari. No, io voglio quelli morbidi. Marco, io te lo dico, non stai facendo buona figura in questa live. Ma non me ne frega, scusa, questa parlava male. Io voglio ordinare il pollo. No, tu vuoi ordinare un secchio. Poi già, poverina, lei non conosce appena la nostra lingua. Magari hai imparato a memoria il menu e tu le hai detto, scusi, posso avere un secchio? Marco. Allora, io non so, ho detto che non è una questione di... Ma non è possibile che sei morto. Ma stai uno stronzo o cosa, però? Scusa. Ero distratto. Non ero distratto, stai uno stronzo. Aspettai zitto, fammi finire solo. Alla fine la finiamo parlando. Allora, il punto non era che era peruviana. Il punto era che faceva bibidi bubidi. E i peruviani... No, il punto era che ti è nato un secchio con i nervi. Ho capito, ma io non potevo neanche interloquirci pure volendo. Perché io ho detto, il cosomista fa sì sì, bibidi bubidi. Aspetta che vi metto qui, aggiungi... Aspetta, eh. Andiamo di giocare, che mi sono soffato. E ho chiuso, infatti. Ma non stai attento a quello che dico? No, non sta cagando un cazzo. Non sta cagando. Io non volevo... Cioè, poteva essere un peruviano come uno di colore, come un italiano. Non ci si poteva parlare. Mi sembri fai bibidi bubidi. Ah, ma non me l'hai ritagliata. Che palle che non me l'hai ritagliata. Però era... Cioè, mi sembrava... I tratti mi sembrava peruviano. Poi magari era semplicemente... Scusami, ma tu conosci peruviano? Cioè, io non sarei in grado di riconoscere un peruviano da un messicano da un indiano. Sono tozzi i peruviani. Non è vero. Ti dicevo che i peruviani sono grassi. Non è vero che i peruviani sono tozzi. Sì. No, sono i messicani che sono tozzi. Come i messicani sono tozzi? No, anche i peruviani sono tozzi. Adesso ti cerco peruviani giù. Mi cercare i peruviani, scusami. Guarda che tozzo. Guarda che... Ho fatto aggiungere anche il buon moro. Vero, sono un po' tozzi. Sono tozzi i peruviani. Sono tozzi. Ma poi ti ripeto, non era il fatto che era peruviano, il fatto che non parlassi italiano. Io come ti faccio a ordinare per bene? Deve essere proprio imbarattante quando uno ti fa... Come quando l'assistenza cliente... Come quando chiama... Esatto, come quando... Io devo fare un lavoro... Cioè, devo chiedere assistenza a fast. Mi risponde uno e mi fa... E io non so cosa dirti. Chiudo. Sono abbastanza sicuro... Sono abbastanza sicuro... Che per quanto non siano italiani... Non parlino così... Nell'assistenza a fast. Però non capiscono mai quello che... Cioè, non è vero mai no. Il KFC avrà delle persone che controllano il loro personale, no? Possibile che questo non sa parlare, sa dire solo sì, sì, bibidi bobidi. E io come ordino, scusami. Fortuna che le bevande si prendono illimitate di che ti schisci il bottone. Perché se no, se gli devo dire anche che... Sì, ma ti danno la pepsi, quindi se la possono infilare nel culo. Mi versava la sua urina dentro il bicchiere. Grazie Forrest. Addirittura... Mi sembra un po' eccessivo questa tua reazione. Tra l'altro adesso con i call center... Sì. Quando chiami ti dicono se vuoi parlare con un italiano perché sei rapista... No, è europea. È europeo. Unione europea ti dice, non italiano. Che cazzo me ne serve allora? Scusami, mi danno un tedesco che comunque non capisci un cazzo. Non è che sono razzista solo verso i turchi. Tra l'altro la cosa imbarazzante e un po' cringe, secondo me, è che glielo devi dire al tipo... Cioè, tu c'hai la signorina che ti risponde... Salve, chiamo dall'India. Voglio parlare con uno dell'Unione Europea. Mi fai cagare. Passami uno che parla vero. Grazie alla famiglia, risponde. C'ha ragione e si offende, scusami. Io gli dico, guarda, passami anche tuo fratello. Grazie FG. Giusto per capire che non c'entra il razzismo. Passami l'altro tuo fratello peruviano che però mi sa parlare l'italiano. Perché sono tutti con le famiglie giganti perché sono peruviani adesso. Adesso, Morelli. Mi è venuta voglia adesso di scopozzare l'internet per davvero. Che dite, lo facciamo domani? Dammi una notizia adesso. Io non so cos'è lì. È tardi adesso, è tardi. Non sai cos'è l'internet? Una notizia al volo. Di videogiochi? Qualsiasi, qualsiasi. Vado sul nostro sito di riferimento, Multiplayer.it, che fa gossip e anche un po' di videogiochi. Sono belli i peruviani. I peruviani su Multiplayer. Quel peruviano lì in particolare. Non c'è niente, non c'è neanche del gossip stasera. C'è un cazzo. Le memorie RAM DDR5 arriveranno nel 2019. Veloci il doppio rispetto alle DDR4? Interessante. Una domanda che si pone... Questo sito si pone la domanda. Sì. Appunto, andiamo a vedere l'articolo, qui vedo subito... No, mi fa cagare la lega, lo dico. Che c'è scritto... Secondo quanto riportato dal sito, scusatemi, è un attimo impastata la bocca, Segment Next, la compagnia Rambus, impegnata da tempo nello sviluppo di tecnologia legata alle memorie di RAM, ha annunciato di avere un prototipo di DDR5. Quanto è di però? Pronto. Quindi un prototipo già ce l'hanno. Siamo qui, appunto. A me mi sembra il tempo stia volando. Io non ho più la cognizione. Quindi stai dicendo che ormai ci stanno nascondendo le cose. È un chiaro complotto nel mondo delle RAM. Chissà da quanto tempo hanno questa DDR5. Secondo me ce l'hanno da un sacco di tempo. Che cazzo vuol dire che è uscita la DDR4 quest'anno e l'anno prossimo già c'è la DDR5? È una cosa che non è possibile, non è plausibile e ci stanno prendendo per il culo. Questo qui è un insulto alla nostra intelligenza, non è corretto nei nostri confronti. Lo sai cos'è questo? Questo qui è solo mero marketing. Nero marketing? Non nero. Quindi tu stai dicendo che sono le persone africane che hanno creato le DDR5? E' diventata una questione di razzismo. E li stanno pubblicizzando. Siamo passati dal crudismo ai truviani ai neri che fanno le DDR5. Aspetta, c'è Moro che sta dicendo che le persone di colore stanno facendo una campagna marketing per vendere queste DDR5 al doppio della velocità e il triplo del prezzo entro l'anno prossimo. No, io non sono razzista, ma in Giappone comunque si sa che ci sono queste fabbriche dove loro studiano e progettano questi tipi di tecnologie, un po' credo anche per imprigionarci nella morsa dell'internet. Ma infatti è vero, noi sappiamo, perché abbiamo visto un sacco di video e documentari a riguardo, in Giappone loro hanno queste mini capsule dove vanno a dormire. Cioè che cazzo vuol dire dormire in una mini capsule quando volendo potreste avere un appartamento? Loro invece dormono in questi buchi perché vengono connessi all'interno della rete, buchi nerissimi, perché c'è sempre la questione del marketing del DDR5. Loro sono chiusi dentro lì con un marketing proiettato del DDR5 e viaggiano nell'etere. E questa cosa è incredibile, andrebbero aiutati. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mandiamo degli aiuti ai nostri amici giapponesi, inchiusi nelle capsule criogeniche. Inchiusi nei buchi neri, chiamate capsule criogeniche, ma con una tecnologia avanzatissima appunto. Però noi appunto chiediamo aiuto a questi poveri hinduisti. Ho sbagliato, non lo direi. Mandateci nel DDR5, o magari no perché dovrei cambiare anche tutta la scheda madre, non c'ho voglia. Ho sbagliato. Che poi sicuramente quando arriveranno queste DDR5 non funzioneranno, telefoneremo al supporto clienti, risponderà un indonesiano. Che farà più i uovi. Quindi, riassunto della live. Viva la matriciana con le uova e la carne morta. Abbasso il razzismo. E viva i peruviani, ma quelli con cui ci si vuote. E viva i peruviani, ma soltanto quelli con cui posso averci a che fare. Perché se tu mi parli, neanche in peruviano, mi parli in ostrogoto. È incredibile. Tu Marco stai dicendo che tutti i peruviani che lavorano alla KFC parlano ostrogoto? No, io sto dicendo infatti... Sono accusi molto pesanti contro un'azienda che ne sa apacchi. Guarda che c'è il colonnello Sanders che ha il baffetto che è un po' malandrino. A parte che quello lì se lo guardi con la luce giusta è giapponese. Quindi stai insinuando che il colonnello Sanders, proprietario della KFC, famosa azienda americana, è giapponese. Andate a guardare le foto e il maestro Miyagi. Andate a guardare le foto e il maestro Miyagi è quello che ha fatto il corso. Però assume solamente i peruviani che parlano ostrogoto. Assume solo quel peruviano, a quanto pare. Solo lui? Di contratto, però. A parte che adesso che mi ricordo bene era una ragazza, quindi era una peruviana. Però io gatto direi che questa... Però era veramente brutta. Sì. Questa forma può essere appunto ripreso prossimamente. Un appuntamento fisso della domenica? No, però può essere ripetuto un'altra volta e mi sono scordato cosa volevo dire. Piero, sei volta. I peruviani ho detto che mi piacciono. Proprio perché mi piacciono vorrei sentire uno che mi parla, così posso interagire. Ti piacciono i peruviani? mi sta antipatico quindi sto dicendo che tutte le persone con la quale non riesce a parlare per barriere linguistiche ti stanno sulle palle quindi arriva jessica nigri no però se ti devo ordinare qualcosa si e ti dice ti voglio limonare duro e voglio fare all'amore contento dici no perché mi stai sulle palle in quel caso direi a parte che sono impegnato quindi direi di no prescindere però se io a jessica nigri gli sto ordinando delle patatine cotte in un certo modo e lei mi fa senti un po tettona senti un po tettona vedi di farti da parte chiama uno che mi sa fare il suo lavoro visto che quel signore è pagato per starla dietro per servirmi e quindi tutti i peruviani sono schiavi ma 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 se facessero un lavoro diverso da quello che mi serve da mangiare magari è meglio ecco come quella signora peruviana non mi ha soddisfatto non ha adempiuto al suo lavoro per cui è pagata mi faceva bibidi bibidi quindi stai dicendo che i peruviani non si lavano mai le mani dopo aver ritirato il resto non adempiono il lavoro non so come rispondere perché facendo bibidi bibidi toccavano i soldi aveva le dita zozze quindi poi ti prendeva il bucket quindi ungono l'euro ungono l'euro poi tu quando ti vanno a ridare il resto prendi la banconota e vedi la strisciata di unto e ti ungi le mani puoi dire quello esatto è così che succede infatti cosa vuol dire che uno dice quando tu ha omofobobase tu gli dici io non lo sono aspetta parla per te almeno non mi fare interrompere che poi mi si intenzica tu persona generica che sei magari incontri una persona che vedi che fa dei commenti omofobi e tu non ci stai e gli dici si però questo atteggiamento omofobo non mi piace lui ti risponde ma che omofobo io avevo degli amici gay e che c'entra scusami che c'entra che avevi degli amici gay e perché non puoi avevi soprattutto passato a parte che avevi quindi li hai mollati passato avevi avevi verbo imperfetto quello lì imperfetto avevi ebbi era passato remoto non è sempre buono se tu mi dici avevo degli amici gay e quindi non sono omofobo eh no ma parlando del passato vuol dire che insomma è finita a parte che avevi quindi è finita grazie polo ariosto grazie mille anche a lei giusto in tema quindi anche tu avevi degli amici peruviani ma adesso sei razzista adesso non è più amico beh no non ci sentiamo più ha cambiato idea non ci sentiamo più perché scusami perché non senti più i tuoi amici peruviani scusami hai detto che ti trovavi stra d'accordo perché non sento più nessuno di quelli con cui andavo a basket perché sei razzista perché? secondo me sei diventato razzista Morelli è razzista comunque lo sta dicendo un po' troppe volte questa sera dimmi una frase razzista tu stai insinuando che Morelli sta mascherando il proprio razzismo accusando te di razzismo è certo tu sei un accusatore tu sei un accusatore io sono un accusatore io sono un accusatore un accusatore non ho il martello adesso se no non credo funzioni così quello lì era il giudice era il giudice di colorato comunque chiudendo questa live incredibile io voglio i nomi delle cose esatto non è perché è crudista tu mi fai una carbonara crudista e non è una carbonara ma le assomiglie e basta si chiamala fake carbonara ci sono i fake taxi facciamo anche la fake carbonara credo che Marco non sappia di cosa stai parlando fake carbonara? prima no di cosa? il fake taxi Marco no non so cosa sono ah cos'è cos'è? google un secondo ti aspettiamo dai io lo so che è una cosa porno eh fatti x video il mio link vabbè comunque io allora facciamo così guarda cosa mi zoom comunque dicevo di che? tu in chat o che riguarderai questa live in past che sei crudista io mi che se vuoi mi puoi invitare a cena sì perché io sono convinto che mi piace magari anche quello che mi fai magari no però magari però ogni piatto che mi porti ogni piatto che mi porti te lo insulta perché? è per il nome ecco lei è la pizza tua mamma è una troia allora come la chiameresti? pizza alle mandorle perché ci sono le mandorle eh no sei stronzo è tutto tritato di mandorle non la puoi chiamare pizza non la devi chiamare pizza la chiami ah è vero hai ragione la puoi chiamare schiacciata o mandorlata schiacciata di mandorle tritata di mandorle oppure schiacciata di mandorle alla pizzaiola ecco sì eh no non puoi pizzaiola sarebbe pomodoro e mozzarella c'è solo il pomodoro e origano ho capito è pizzaiola basta quello scusa pomodoro e origano è fatta quindi dipende sopra come la condisci fai schiacciata le mandorle mi giuro vengo a casa vostra e mangio da voi che sono i gusti della pizza però vabbè è vero che è marketing è marcondi delle persone di colore che vendono il DDR5 ricordiamo ti scherza che sono tutti crudisti tra l'altro ti scherza in generale lo diciamo c'è una grandissima lobby capitanata da colonnello Sanders che gestisce i KFC di tutto il mondo e crea posti di lavoro solamente per peruviani che non sanno parlare il peruviano ma solo lo strogot per poter servire al nostro market dei secchi pieni dello stesso tipo per favore nervoso esatto voglio magro quindi stai dicendo che i grassi va bene grazie mille a Gaggio sai perché ho dovuto specificare che si scherza perché in una delle ultime live che io e Moro abbiamo fatto uno dei nostri dibatti di solito la gente poi mi ha scritto perché avete litigato ma avete fatto pace scemi cretini stupidi a me non me l'ha scritto nessuno comunque Mark no l'ha scritto a me perché ero io con l'offeso nella patria io ringrazio i nostri amici della serata il buon Mark a lei a lei che maleducato e il buon Moro a lei e allora è un affanculo tutti e due noi ci vediamo domani mattina grazie per l'invito o a lei la peruviana che deve essere licenziata peruviana che parla ostrogotto ricordiamo che non è Jessica Nigri no magari è Jessica Fletcher no quindi noi ci vediamo domani mattina con un videogioco che è hub no non so cosa faccio domani non so fai Besige no l'hai finito non l'ho finito in realtà ti mancano livellino ancora un paio di livelli ci sono ancora vabbè vedremo domani mattina che cazzo facciamo grazie a Mark e Moro grazie a tutti voi per aver seguito noi fino adesso è una bella cosa questa la prossima volta magari anche senza giocando che viene proprio l'internet one on one è vero copiatissimo facciamo ciao Darwin facciamo uno versus l'altro e come facciamo poi scusami faccio così a domani grazie donazioni super sub come sempre buonanotte buone botte viva le tette tutte di notte di notte non si vede è meglio di giorno è vero no